Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Leonardo Bardazzi. In A11 incidente tra Sesto Fiorentino e il Bivo A11 Firenze Nord in direzione Pisa. In A1 per lavori in direzione Bologna a corsie interne chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandici, possibili disagi per la viabilità. In A12 per chi proviene da Genova chiuso lo svincolo di massa fino alle 18 di oggi. Sulla Firenze Siena scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze Impruneta in direzione Firenze. Sulla strada statale Aurelia da oggi e fino al 22 dicembre scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo di Rosignano Marittimo in entrata e in uscita per chi viaggia verso Livorno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!